Successo ieri sera a Villa Anna per la tredicesima edizione del concorso poetico Evviva la Mamma. Una serata all'insegna della poesia, della buona musica offerta dalla banda cittadimodica Belluardo Risadelli, del Buon Canto affidata alla bravura del tenore D'Aria Damo. Apprezzate le performance della violinista soprano Sara Ricca e l'elegante danza affidata a Saveria Tumino, Andrea Panuzza e Marta Olivieri. Un pubblico numeroso, attento, assistito alla serata, decretando vivo apprezzamento per la professionalità nella conduzione e nell'articolarsi dello spettacolo. Momenti di intensa commozione per le due mamme insegnite del riconoscimento. La prima mamma dell'anno è intitolata Grace Susino che è andata alla signora Paola Defendi Reggeni, mamma del ricercatore italiano barbaramente ucciso in Egitto. A rappresentarla è il loro legale di fiducia l'avvocato Alessandra Ballerini. È stato proiettato un video con il saluto e il ringraziamento dei genitori di Giulio Reggeni. Ringraziamo la vostra associazione Evviva la mamma per l'attribuzione del premio come mamma dell'anno. Noi siamo con voi con il pensiero e vi mandiamo un caro saluto anche tramite il nostro legale Alessandra Ballerini che questa sera ci rappresenta. Siamo tutti qua, tutti e due, perché senza un papà non ci sarebbe una mamma. Pozzallo ci offre la possibilità di rilanciare il nostro messaggio di verità e giustizia per il nostro caro Giulio. Pozzallo, un punto geografico storicamente solidale che si slancia nel Mediterraneo, luogo ideale per dedicare e rilanciare il premio a tutte le mamme dall'altra parte del Mediterraneo che hanno perso i loro figli. E quindi, un messaggio e una dedica a tutte le mamme che confidano ancora nel poter ritrovare i loro figli e riabbracciarli. A tutte le mamme che confidano in un futuro migliore per i loro figli, rinunciando a volte alla loro presenza, sperando in un viaggio con rotte non sempre sicure. Da Pozzallo, metaforicamente, traccio una rotta inversa e divio un messaggio d'affetto e solidarietà all'altra sponda del Mediterraneo. Grazie ancora E auguriamo una buona sorrata a tutti Buonasera Bel momento quando è stato srotolato lo striscione giallo con su scritto Verità per Giulio Reggeni. Il premio Mamma Speciale, intitolato a Yolanda e Francesco Ciurciu, è andata a Muni Sigona, la dinamica mamma che sta lottando per realizzare un albergo etico per accogliere ragazzi disabili seguiti da operatori specializzati che lo gestiranno. Alla signora Sigona, tra i tanti premi, è stata donata una preziosa icona realizzata dalla pittrice Maria Grazia Floridia, oltre a tanti doni e fiori offerti dagli sponsor. Ottime le interpretazioni delle poesie lette dall'attore Carlo Cartier e Isabella Papiro. Apprezzate anche le scelte della giuria presieduta dalla professoressa Grazia Dormiente. Va dunque in cantiere la tredicesima edizione, ma con l'appuntamento dato dal dottor Antonino Caldarella, patron di Villa Anna e coorganizzatore dell'evento, al 9 agosto prossimo per la quattordicesima edizione.